eeeh Fabrizio noi sei? io sono arrivato al campo che avrei finito un pochino prima non è che poi anticipa 5 minuti buongiorno noi abbiamo un grosso problema io con il sequencio no? no 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 adesso non sto usaremi con il ministro delle finanze mi ha fatto l'accettamento devo essere sincero con tutti i scherzi che avete fatto questo era quello più brutto credibile per loro per me mi frega anche io faccio